Vi presenterò quello che è stato il progetto Gorizia città di impatto positivo svolto dalla quinta cat dello scorso anno. Adesso andrò a esporvi le varie problematiche che abbiamo individuato noi all'interno del parco dopo aver fatto vari rilievi. La maggioranza di oggi mi è piaciuta molto, è stato molto coinvolgente il percorso in quanto dà la possibilità a noi giovani di progettare qualcosa che vuol rendere il futuro, il mondo, come dicevate voi prima, un posto migliore. Secondo me se la scuola dà un buon incentivo possiamo fare tanto. Pensavamo di ricolorare la pavimentazione, rifare le linee e aggiungere un altro canestro e mettere a posto quello che è già presente. Alla fine l'abbiamo messo su una tabella per calcolare i consumi e quanto costa e quanto effettivamente risparmieremmo con i tubi a led. Non ci aspettavamo di vincere questo premio ed è stata una sorpresa. L'abbiamo fatto anche perché ci ha divertito farlo non solo perché era utile. È stato molto interessante, mi ha fatto scoprire delle cose che non sapevo e mi ha fatto desiderare di prendere il mondo un posto un po' migliore.